Sulla Sardegna credo che vi interessi, credo che troveranno assolutamente la quadra i leader, come hanno trovato la quadra su tutte le questioni. Quindi è Solinas per voi il candidato in Sardegna? Io ho detto che troveranno la quadra i leader sulle vicende sul tavolo, una delle quali è la Sardegna e troveranno la quadra anche sulla Sardegna. Ma ci possono essere ricadute sulla Basilicata? No, non riteniamo che ci possano o ci debbano essere ricadute sulla Basilicata, né sull'Abruzzo e né sul Piemonte. La questione parlamentare, la Lega ha proposto il terzo mandato, una proposta di legge, voi siete d'accordo? No, noi abbiamo sempre detto, non perché l'ha proposto la Lega o meno, quindi nulla di politico, noi non siamo d'accordo che ci sia questa tipologia di apertura e questo l'ha detto anche Antonio Tagliani, però non fa nemmeno questo parte del programma, ma poi se ci sarà da discutere o da dibattere si faccia, insomma quello che ha detto Antonio Tagliani è il pensiero di Forza Italia.